Bene, signori, buongiorno, sono Francesco Miorin, direzione commerciale dell'azienda Atec, famosa per la distribuzione dei suoi prodotti col marchio Tutondo. Siamo qui a Fiera Sicurezza di Rho, Milano, 2015, presentando delle novità che sono, a detta nostra, straordinarie. Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo la presentazione di un nostro sistema di evacuazione vocale che prende il nome di Metcube, che ha integrato sia l'alimentazione secondaria, sia l'amplificazione, sia l'alimentazione, sia la centrale e le batterie. Questo sistema ha delle argomentazioni che sono veramente di livello superiore, in quanto ha integrato tutto un sistema di controllo multi-room, che fa parte dei nostri 35 anni di esperienza in quello che è il mondo della distribuzione audio. L'integrazione del sistema multi-room permette di utilizzare le stesse apparecchiature e stesso sistema, sia per una musica di intrattenimento, sia per quanto riguarda un'evacuazione. Questo fa la felicità di chi? Degli architetti, degli installatori e anche del consumatore, dell'utilizzatore finale, perché con lo stesso sistema ha entrambe le due soluzioni. Uno dei vantaggi che permette di aver integrato tutto ciò è il fatto che possiamo avere una app anche su smartphone o su Android, che permette di controllare sempre la parte multi-room e nessuno ha qualcosa di questo tipo. In più abbiamo dei diffusori che sono di design, che sono sempre N54, che permettono di andare in abbinamento a quello che è il sistema di evacuazione. Un'altra argomentazione è il fatto che abbiamo un gateway Conex che permette di controllare sempre la parte multi-room e poi Dulcis in fundo con presentazione proprio in Fiera Sicurezza 2015, il nostro software di programmazione e di gestione che è molto intuitivo, molto semplice, molto completo e che nessuno oggi può offrire a livello di quello che lo stiamo offrendo noi. Questa è solo una panoramica molto veloce di quanto siamo in grado di potervi illustrare in modo più completo e disauriente facendo riferimento nel nostro sito web www.tutondo.com Grazie per l'attenzione e a presto!